ballando con le stelle ruba ad amici luca fabilla e lucrezia lando ecco chi sono ballando con le stelle 13 ci sarà anche un po di amici di maria de filippi nel cast ecco perché lucca fabilla da amici 15 a ballando con le stelle 2018 lucca fabilla fu concorrente ad amici 15 in coppia con benedetta orlandini nella categoria latino americano ecco la scheda biografica di allora luca 20 anni nato a roma ha iniziato a ballare all'età di 9 anni mentre benedetta 18 anni nata a piombino è iniziato a ballare quando aveva 5 anni sono una coppia di ballo di danze latino americane ballano insieme da 4 anni nello speciale del sabato 12 dicembre luca vince la sfida con gabriele ballando un passo a due con la ballerina professionista francesca luca insieme a benedetta è capo squadra nella puntata di sabato 9 gennaio dove vince il ballottaggio contro la squadra di ivonne dopo la puntata però le maestre tito va eccellentano lo raggiungono in sala prove deluse dal fatto che il ballerino abbia deciso di non schierarsi mai perdendo così l'occasione di esibirsi per la prima volta in coppia con benedetta dopo lo speciale di sabato 23 gennaio luca riceve una nota dalla commissione per aver detto in un fuorionda che l'obiettivo dei professori sarebbe quello di fargli fare brutte figure facendolo esibire in coreografie non adatte alle sue corde è un percorso difficile quello di luca il ballerino di latino americano manuele propone ai professori di poterlo sfidare e decretare chi dei due potrà rimanere nella scuola di amici 15 la commissione accetta e la sfida si svolge durante lo speciale di sabato 30 gennaio dove luca deve abbandonare il banco ora sarà l'insegnante di cristina i ch lucrezia lando dalla mancata partecipazione ad amici a ballando con le stelle 2018 il messaggero ridela che lucrezia lando è stata ingaggiata dalla produzione dello show di rai 1 condotto da milly carlucci dopo essere stata scartata proprio dal talent show di canale 5 ha partecipato a numerose competizioni internazionali e spesso ha danzato in coppia con giacomo ballarin sarà in gara con un modello giaro giarratana ballando con le stelle 2018 cast completo chi sono i concorrenti e gli insegnanti cesare bocci e alessandra tripoli stefania rocca e marcello nuzio natalie guetta e simone di pasquale eleonora giorgi e samuel peroni ammedeo minghi e samanta togni massimiliano morra e sara di vaira cristina i ch e luca favilla jessica notaro e stefano oradei giovanni ciacci e raimondo todaro giaro giarratana e lucrezia lando a cash cumane vera chinumena francesco porcella e anastasia cuzzemina don di amonte anna cartunena chau